Musica Si ascoltano con sempre maggiore frequenza notizie che riguardano persone colpite da malattie neoplastiche e non sempre purtroppo le cure e proposte ottengono i risultati sperati. Ultima spiaggia per questi malati viene considerato il trapianto di midollo, ma soltanto una persona su 100.000 è compatibile, quindi le probabilità di sopravvivenza dipendono esclusivamente dal numero di persone disponibili a diventare donatori. In Italia queste persone stanno aumentando grazie ad una serata campagna di informazione portata avanti dall'ADBO, l'Associazione Donatori di Midollo Osseo, ma esiste ancora molta ignoranza in materia, per questo è necessario prima formare chi dovrà essere l'interlocutore principe per veicolare tutte le notizie necessarie a fare una scelta come questa. L'importanza di essere donatori, l'importanza di essere donatori consapevoli, è una cosa che anche oggi vogliamo sottolineare. Deve essere una scelta che viene fatta in maniera informata, in maniera consapevole, in maniera tale che la persona che si avvicina alla problematica della donazione sia veramente sensibile, capisca veramente che cosa sta facendo e abbia piacere di dare anche questa opportunità alla propria vita e di vivere anche questa esperienza. A Vibo Valenza si è pensato di interagire con il mondo della scuola e dello sport. È assolutamente necessario e indispensabile per offrire una rosa di situazioni formative per i nostri alunni che hanno bisogno di uscire dal loro isolamento dovuto a 3.000 situazioni che non stiamo qui a dire e hanno bisogno di crescere con lezioni di storia e geografia italiano ma anche di solidarietà e di volontariato. Adma e Sport, un connubio che va avanti da anni? Sport a Di Monna è un connubio vecchio, nasce da tanto tempo perché proprio grazie all'amicizia che mi lega alla professoressa Davoli abbiamo ritenuto lo sport, quindi io che mi occupo di educazione sportiva e di educazione alla salute, un ottimo vettore per far transitare ai nostri ragazzi sotto la ludicità che lo sport offre, messaggi così importanti come la donazione, la solidarietà e il volontariato. I ragazzi rispondono a queste iniziative? Molto, molto di più di quanto noi pensiamo perché i ragazzi che sembrano così isole, intoccabili, quando vai a toccargli il cuore nella maniera giusta rispondono e devo dire che danno lezioni di vita a noi adulti.